Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. È stata una giornata di festa per la città e per l'Ancona, al rientro dal ritiro di Cingoli, che ha vinto non senza sudare per 2 a 1 l'amichevole stracittadina con i portuali. Realtà della promozione marchigiana in una giornata di grande caldo, che ha visto oltre 500 tifosi assistere alla partita al Giuliani di Torrette. Di Mattioli e Lombardi i gol, quest'ultimo sul rigore, entrambi nel secondo tempo, prima della rete della bandiera di Polenta in chiusura di gara. Un'Ancona con diverse assenze, tutte a scopo precauzionale, apparsa ancora in fase di rodaggio, ma che ha potuto contare sull'arrivo ufficiale di Antonio Cioffi, gioiellino attaccante in prestito dal Napoli, il cui contratto è stato finalmente perfezionato e che ha espresso nel fine partita tutta la sua felicità per la conclusione di una telenovela durata anche troppo. Antonio Cioffi, prima impressione ad Ancona, è tutto perfezionato, è andato tutto bene intanto? Sì, è andato tutto bene, sono sereno, sono tranquillo e sono felice di stare qui ad Ancona, sono felice. Da partenopeo con il gemellaggio, insomma, ti trovi anche a tuo agio? Sì, io appena ho ricevuto la chiamata dell'Ancona, è stata subito la mia prima scelta, poi con il fatto del gemellaggio con il Napoli mi sento un po' a casa mia. L'uscita di oggi, come la giudichi e come ti sei trovato? Mi sono trovato bene, però si può fare sempre meglio, giustamente ora veniamo da un lungo ritiro dove abbiamo fatto tanto lavoro, quindi è giusto che siamo un po' pesanti e siamo un po' pesanti, però ora abbiamo tre giorni liberi, ci riposiamo e torniamo con la testa giusta. In tanti sono stati quelli che hanno voluto salutare la squadra a rientro in città dopo il primo ciclo di amichevoli in vista delle prossime partite che precederanno l'inizio del campionato il 3 settembre a Chiavari. Un calendario, quello delle amichevoli, è ancora da confermare che dopo la sosta ferragostana prevede la sfida a Teramo di sabato prossimo contro il Monterosi con inizio alle 17. Poi il 22 o 23 agosto Trento Ancona sul neutro di Corticella, prima della presentazione ufficiale della squadra che dovrebbe esserci il 30 agosto davanti al monumento ai caduti del Passetto.